e oggi venga prima di iniziare andremo a allazzare davvero dei maiali iniziamo sempre con mostrati dai maiali oggi allatteremo dei maiali inizieremo con i maiali in termina guardatelo iniziamo con il maschio vedete allora leggessi un attimo guarda questa portina è femmina no ragazzi questa qua vive nel mondo dei porchesi sai come si chiama? cezzina si chiama femmina guarda un attimo questo qua invece è il maschio e lui si chiama Mariano vedete è una bella coppia insieme ragazzi comunque oggi vi spiego una cosa oggi dobbiamo mandarla allattare e ora vi spiego una cosa devo non stare sotto la lampada per i primi 4 giorni i primi giorni non sta sotto la lampada vedete? e se lo sapete non c'è più uno è una borsa e va raggiungeremo e faremo più video con noi magari appena possiamo uscire ragazzi e ora passiamo non c'è più una cosa auguri a tutti i padri auguri a tutti i vostri padri ciao ciao e guarda e guarda dopo spieghiamo ciao ragazzi ecco come si prepara il latte prendete il latte di vaccino che va bene lo stesso vedete quanto dovete mettere una volta messo si deve si deve prendere una pendola una pendola ragazzi dovete prendere una pendola mettere un po' d'acqua e farla bollere poi prendete quella bottiglia di latte dovete messo prima il latte in polvere di vaccino senza scottarvi prendete la pendola guardate ragazzi potete mettere un po' d'acqua fredda altrimenti dopo si scotta troppo il latte ora andiamo a lattare il maialino ragazzi ecco come si è andato il maialino prendete una bottiglia quelle piccoline quelle là che si possono comprare proprio dall'uccelleria e ce le date grazie da quello che potete vedere mettete una tovaglia sotto dal sul tavolo dove è stata allattata il maialino poi mettete il maialino sotto e pulirlo ora passiamo all'atto maialino vedete ragazzi ecco qua anche la femmina ragazzi questa qua invece è la femmina la stessa cosa la voglio potete vedere ci vediamo e vi passo alla torta che avete visto come sta all'atto maialino ragazzi se volete darti i video di come sta all'atto animali vi portano anche come si stava a mangiare degli animali ragazzi e vi passiamo a mangiare degli animali 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 e vi passiamo a mangiare degli animali